Ciao a tutti! Eccoci di nuovo! Oggi siamo qui per ringraziarvi e per farvi i nostri migliori auguri di Natale. Esatto, in quanto il nostro successo è tutto merito vostro. A tutti coloro che hanno seguito il nostro sito e hanno impaginato il loro fotoprodotto preferito hanno seguito anche i nostri social media e ci hanno affidato le proprie fotografie e i propri ricordi vi auguriamo un buon Natale e un gran felice anno nuovo. Ciao! Ciao!